Buongiorno a tutti da Vincenzo Penna ed investire.biz. Anche stamattina ci sono io e andremo a vedere un po' quello che diciamo è l'andamento degli indici americani, quindi in particolare S&P 500 e Nasdaq, quindi US Tech 100. Ma andiamo subito sui grafici e andiamo a vedere com'è la situazione. Allora, questo è il grafico degli US Tech, quindi del Nasdaq e quello da dove voglio partire è proprio la giornata di ieri, quindi dalla candela di ieri, che è questa candela qui in particolare. La candela ha fatto registrare una perdita del 2,20% all'incirca ieri. È stato, diciamo, è molto importante analizzare questa candela perché è stato un po' lo spartiacque tra la zona di distribuzione al di sopra appunto della candela, della rottura dei 12.200 per il Nasdaq, però poi dopo andremo a vedere che contestualmente la candela è la medesima anche sull'S&P. e vi dicevo, tra la zona, diciamo, di distribuzione che vi ho segnato qui con il rettangolo, tra area 12.200 ed area 12.900, all'incirca 13.000. Quindi è molto importante perché questo cosa ci dice? Questo ci dice semplicemente che la zona di distribuzione, cioè ci ha dato conferma che quella zona lì fosse di distribuzione e che quindi l'ultimo minimo crescente, subito dopo quello del 30 gennaio, è stato rotto proprio con la giornata di ieri. Ed è stato rotto come però? Con una grandissima forza. Cioè parliamo di una candela che comunque ha fatto registrare il meno 2,2% su base giornaliera e non è affatto poco, soprattutto per gli indici americani. Quindi questo, vi dicevo, ci dice che questa è stata una zona di distribuzione e che quindi cosa si andrà a fare? Si andranno a cercare posizionamenti short a livello daily, quindi a livello più medio e lungo termine. Le aree che vi ho segnalato, oltre alla macro area appunto della ex resistenza tra 12.900 e 12.200, sono le aree molto interessanti che sono appunto proprio quelle su area 12.200 dollari all'incirca, che sarà un po' l'area della mia personale entrata short. Anche perché io non amo operare a breakout, ma oltre al breakout attendo sempre un retest e poi una conferma qui sull'area del retest. Quindi posizionamenti short a partire da area 12.200, quindi all'incirca alla metà della candela fatta registrare ieri, con target price di 11.800 per quanto riguarda l'S&P, primo target price, secondo target price su area 11.300 all'incirca, ed ultimo, anche se difficile, almeno per il momento, su area 11.000 all'incirca fino ad area 10.700. Questo è per quanto riguarda l'S&P, scusate il Nasdaq, e molto interessante sarà vedere il prezzo, come reagirà al raggiungimento dell'ex area distributiva qui, che poi diciamo è stata rotta proprio in questo range qui, tra 12.200 e 11.800, quindi io mi aspetto che sul livello attuale, soprattutto di 12.000 dollari, la domanda si rifaccia sotto e possa appunto andare a ritestare il breakout che è avvenuto ieri. Staremo a vedere quello che succede. Noi siamo punti con i posizionamenti short. Spostiamoci su S&P 500 e andiamo a vedere che la situazione è la medesima, con ovviamente livelli di prezzo differenti per quanto riguarda il prezzo. L'area che diciamo vi ho tracciato è appunto area 4.200, che è l'ex super resistenza, non ancora rotta, che ormai va avanti da fine gennaio, inizio febbraio. La candela di ieri ha appunto rotto l'ultimo minimo crescente in area 4.060 e analogamente al Nasdaq andremo a cercare posizioni short proprio su area 4.060, 4.050, ma già dalla metà della candela di fatto registrare ieri, anche perché è stata molto marcata. Su S&P abbiamo avuto un meno 1,6, meno 1,7% all'incirca. Come target price, ovviamente se l'entrata sarà questa all'incirca 4.060, 4.040. Primo target sarà all'incirca la zona di 4.000 che sarà fondamentale pure a livello psicologico. secondo target in area 3.900 all'incirca e terzo target, terzo e ultimo target, in area di ex supporto tra 3.900 e 3.700, 3.750 all'incirca. Quindi staremo a vedere cosa e come si muoveranno i prezzi nella giornata di oggi, ma per tutta la settimana e vedremo se questa domanda che su una zona psicologica noi ci aspettiamo essere forte riporterà il prezzo a ritestare il breakout di ieri. Quindi detto questo vedremo un po' come si muoveranno i prezzi e vi auguro un buon trading a tutti. Ciao! 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 Grazie a tutti.